In passato, già una volta vi ho parlato di una curva particolare, ovvero le biondetti al Mugello. Si tratta di una variante sinistra-destra che si fa veramente forte e che ha una particolarità. È veramente bastarda. È una di quelle curve dove se cadi la moto praticamente esplode. Ora, ci sono degli alieni che con la curva la fanno in una maniera da strapparsi i capelli. Non so se vi ricordate il video che feci su Luca Salvadori l'anno scorso. E quando inizia ad andare forte, quasi tutti la curva verso destra la fanno col gas così, di traverso. Ecco, guardando gli slow motion, ho notato un particolare a cui non avevo mai fatto caso. Ovvero che esattamente nel centro della curva verso destra, vi sono dei piccoli avvallamenti e delle piccole sconnessioni. Addirittura ci sono alcuni casi in cui la ruota anteriore si stacca da terra per un attimo. Cioè, tu sei 200 all'ora col gas così in piega e la ruota davanti si alza. Ecco, oggi vi farò vedere due casi miracolosi di due piloti che alla Biondetti si sono giocati un intero mazzo di jolly. Il primo caso riguarda Alessio Corradi, classe 1976. Campione europeo Supersport 2001. Debutta in Superbike nel 2005. Sesto a Philippa Island e nel 2008-2009 partecipa al Tourist Trophy. Ci troviamo al Mugello il 27 agosto 2017 durante la gara della Dunlop Cup 1000, dove Corradi corre come wildcard. Corradi è il secondo, siamo al primissimo giro di gara, davanti a lui Viziello ha allungato e sta scappando. Allora Corradi sta dando tutto quello che ha per cercare di non lasciar scappare Viziello e di restargli dietro. Ecco, ma non appena si arriva alle Biondetti, guardate cosa succede. L'avete intravisto? Ok, rallentiamo e guardate bene che cosa cavolo è successo. Tu spingi sul semimanubrio, è un connubio dello... Mamma Corradi! Mamma mia! Mamma mia, cosa ha rischiato? Ma l'avete visto? Cioè voi avete visto cosa ha rischiato, vero? Ora io con questo messaggio mi rivolgo a tutti i fenomeni da tastiera che avevano commentato il video di Luca Salvadori dicendo Ah vabbè non vediamo niente di strano perché oggi l'elettronica fa tutto lei, le moto si guidano da sole. Allora innanzitutto se fosse così facile pigliatevi una moto, andate alle Biondetti e fatele anche voi così. Ma a parte questa sfilza di minchiate che ho sentito, guardate questo video, guardate. BMW, nuovissima, ultimo modello, traction control, tutta l'elettronica del mondo, guardate cosa succede. Se la stava mettendo per cappello la moto, ok? Per un miracolo divino non è finito in tribuna. Mi spieghi che hai combinato le Biondetti? Eh, ho sporcato un po' la tuta, ma è tutto ok. Come hai fatto? Eh, non lo so, sinceramente non lo so, è partita, qualcuno mi ha salvato dall'alto, domani devi lavorare, devi cambiare le gomme, devi cambiare le gomme. Ma non faceva tutto l'elettronica? No, no, non posso garantire che lì traction serve, ma in quel caso lì non è partito, oppure era già partito da prima e non gli abbiamo dato retta. Diciamo che in quel momento è andata bene, ma di lusso, ma un grande lusso. Perché secondo te ti ha fatto quello scherzo lì la moto? Allora, la moto aveva un saltellamento che veniva fuori quando andavo a chiudere il gas. Quindi nel momento in cui ho pelato il gas per fare lo scambio a destra dentro l'uscita della Biondetti, ha cominciato il saltellamento, io ho fatto l'effetto per interrompere il saltellamento dandogli del gas, ma questo è successo tutto nello stesso momento dove all'uscita della Biondetti c'è un avvallamento che l'ho preso in pieno e poi da lì mi ha buttato per aria. Quindi il traction era probabilmente intervenuto per correggere la moto che partiva quando ho ripreso il gas in mano, ma il saltellamento e riprendere in mano gli asa ha fatto sì che la moto arrivasse troppo in compressione dentro la fosse e da lì poi il controllo non era più in grado di... Ricordatevi bene una cosa, per correre in moto ci vanno due palle così. E' vero, c'è l'elettronica, ma non fa i miracoli. I miracoli li fa questo. Il secondo caso riguarda Luciano Leotta. No, purtroppo non è parente di Diletta Leotta, lo so, io l'ho già chiesto, purtroppo no, mi spiace per voi. Comunque si tratta di un pilota classe 1997. 25 giugno 2017, gara della Bridgestone 600. Leotta, come tutte le altre gare di campionato, naturalmente si sta giocando la vittoria a sportellate con Jacopo Pacco e Alessandro Moncigoli. Bene, siamo nelle fasi iniziali della gara, si arriva alle biondette e guardate qui che cosa succede. Un bel sorpasso suo, Leotta continua... Ooooooh! Ma cos'è successo? Il jolly della vita! Follia pura! Voi vi rendete conto di come è rimasto in piedi. E rivediamo intanto anche il jolly giocato da Leotta. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Voi avete un'idea... Non lo so, cioè non lo saprà neanche lui come ha fatto a restare in piedi, ma voi avete visto che cosa è successo. E la cosa incredibile, sapete qual è? Anche qui, appena rimessa dritta la moto, di nuovo giù in carena, full gas, si rimette in scia, in fondo al rettilineo si riprende il comando della gara. Ma come lo riprende? Sorpasso all'esterno, chiude la gambina e la riapre e si riprende la prima posizione. Non so se vi ricorda qualcuno. Bene, 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 questi erano i due jolly più assurdi che ho visto ultimamente nelle gare che seguiamo noi di Racebooking. E come nel video precedente, anche questa volta dedico una rubrica alle domande e risposte. Linkato qui sotto nel video trovate questo post su Facebook, dove potete scrivere la vostra domanda, io nei prossimi video risponderò alle vostre domande. Conan mi chiede, miglior 125? Boh, non ho mai guidato un 125. Marco mi chiede, hai mai provato una vera GP? Intendo anche quella da due tempi. No, purtroppo no, se volete farmela provare. Salvatore mi chiede, quante moto hai avuto? Una sola, Suzuki GSX-R1000. Poi, come ti è venuta questa passione? Ho sempre avuto la passione per i motori, sin da piccolo, e poi una serie di cose mi hanno portato a lavorare nel mondo delle moto. Ora hai qualche moto privata? Sì, ho una mini GP, con cui mi alleno ogni tanto in pista. Sei un grande e continua così? Grazie. Marco mi chiede, hai mai fatto un incidente in moto da farti passare la voglia di andare? Incidente no, ma una volta sul rettilineo di un viale normalissimo, hai iniziato a sbacchettare per tipo 100 metri, e lì ho detto, vendo la moto. E l'ho venduta, perché per strada mi ero rotto le scatole di rischiare la vita. Sbacchettava perché c'era un tombino del cavolo profondo così. Raffaele mi chiede, figa ce n'è? Dove? Stefano mi chiede, chi è il tuo pilota preferito? Non ho un pilota preferito. Diciamo che se devo scegliere, io preferisco i piloti che hanno le palle di dire quello che gli passa per la testa in conferenza stampa senza dire le classiche frasi preparate. Prendete ad esempio un Marquez nel 2015, non ha mai detto effettivamente quello che stava facendo. Un Petrucci che in conferenza stampa mi dice, io avrei venduto la casa per fare un podio al Mugello. Oppure un Valentino Rossi che è finita la gara e dice, gli tira il culo a Biaggi che finisce sempre dietro in Mondovisione. Un Simoncelli che Simoncelli non gliene fregava niente. Lui gli passava per la testa una roba, lui la diceva, se ne sbatteva. Ecco, per me i piloti veri sono quelli. Poi ho fatto degli esempi italiani perché sono quelli che conosco meglio, ma non so, prendi un calcracciolo che si mette a chiamare la tipa quando ha vinto la gara. Cioè, quello lì è un pilota che ne sa. Bene, alle prossime domande risponderò nel prossimo video. Innanzitutto vi ringrazio per aver seguito questo video, per continuare a seguire i miei video. Lasciate un like, lasciate un commento, condividete questo video e assolutamente iscrivetevi al canale YouTube. Se un video lo vedono 100.000 persone e ho 15.000 iscritti può dire che c'è tanta gente che non ha cliccato su quel tastino. Cliccate, grazie. Ciao.